ciao cari ciao amici siamo noi super alex e oggi sempre abbiamo pijama e abbiamo facciamo vedere allora alex come si chiama questo qui? Gekko aspetta gli ospiti e qui arriva un razzo chiedo un attiraggio chiedo un attiraggio possibili attirare qua ecco abbiamo attirato hai visto quanto fuoco a fumo è uscito da questo razzo e cosa facciamo noi? vigere cosa? tutti vogliono scoprire cosa c'è dentro si? wow io non ho visto una cosa così incredibile incredibile facciamo vedere dai guardate questo come si chiama ragazzo? Gekko no intanto questo non Gatboy Gatboy quando già ma si chiama davvero Gatboy? si Eileen come si chiama? Guffetta Guffetta va bene avete visto la magia? la magia e guardate cosa faccio adesso con questo razzo eccoci si chiama Tiranjo io tiro via la guffetta io tiro via il gatto tu tiri via una femmina ah questa femmina? vabbè però la mia femmina si può volare mi fa volare ecco tiraggio avete guardato il nostro vecchio episodio come si chiama questo qui? la base? la base di pijama la base di pijama super pijamini Alex oggi è arrabbiato è cattivo cattivo questo ragazzino cattivo a voi chi vi piace di più? io o Alex? scriveteli i commenti per favore chi è meglio di noi? secondo te chi? io no secondo me io vediamo vediamo scriveteli sotto che vi è piaciuto di più chi è più allegro? chi è più grande? chi è più bello? guarda come sono bello chi è più pilato? io sono pilato io sono più biondo tu non sei anche biondo ma io sono tutto biondo si sei biondo sei troppo biondo troppo 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 eccoli i nostri personaggi dove vanno oh mi dai una macchina a me anche? no e questa macchina è libera allora è mia e tu hai solo un maschio solo un maschio non lavorare con te basta non giocherò mai vai vai tu hai presentato i giochi? perchè non stai parlando con i bambini? tutti aspettano che tu gli lo dissi qualcosa allora avete visto? Alex arriva dalla scuola e ho imparato un nuovo gesto italiano mi arriva così babbo cosa vuoi? ooooh 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 poi cioccolato? si ah ho imparato anche una roba russa da noi si dice così ma io quando era piccolo facevo doppio ecco ma io lo sai come posso fare? grande così guarda pap 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 beb просто io posso fare rotto no rotto guarda guarda che rose ooooh ah io posso fare peh peh ah ahah ma io ti posso fare fieature a questi sono stati PJ.Mask eh come si chiama questo gioco? PJ.Mask cabina transformabile no così quando c' nata ci sono due personaggi vabbè questa uffi non serve eccoli ma ci sono 3 in totale ci sono tre scatole che si mettono una sopra l'altra che proprio diventa una grande grande così ragazzo. Guardate questa macchina è qua perché c'è l'acqua e lei va sotto l'acqua. Due comobili. Ragazzi ragazzi a me mi dispiace qui guardate i nostri qui guardate i nostri nuovi video qui iscrivetevi sul canale no qui iscrivetevi qui guardate i nostri nuovi video intanto noi vi salutiamo. Ciao!